Al cuore dell'IA moderna ci sono il machine learning e il deep learning. Il machine learning permette ai computer di imparare dai dati senza essere esplicitamente programmati. Immaginate di mostrare a un computer migliaia di foto di gatti. Col tempo imparerà a riconoscerli da solo. Il deep learning va oltre, utilizzando reti neurali artificiali ispirate al cervello umano. Queste reti possono gestire compiti complessi come il riconoscimento vocale o la guida autonoma. Questi approcci hanno portato a progressi straordinari, permettendo all'IA di superare gli umani in molti compiti specifici. Ma come influenza l'IA la nostra vita quotidiana? Nel prossimo video vedremo esempi sorprendenti di IA che usiamo ogni giorno, spesso senza rendercene conto.